David, ti prego, ti prego, tu devi aiutarmi a fuggire. Non toccate questo libro. No, tu non ti rendi conto. C'è qualcosa nel bosco. E sono convinta che sia qui con noi, nella casa. Adesso. Ho liberato qualcosa da quel libro. Qualcosa di malvagio. Questa cosa si è attaccata all'anima di Mia. Dobbiamo ucciderla. Stanotte morirete tutti. Taglia! Taglia! Noi ti avremo, non ci sfuggirai, quando dormirai. Taglia! Taglia! Grazie a tutti.